Schakiri, lo ferma ma non controlla, ci sono metri a disposizione questo poteva essere il gol del vantaggio palla intercettata, attenzione hanno l'occasione per passare una gran bella rete che concede adesso il vantaggio da gestire sembrava una partita equilibrata sulla carta con due squadre che si occupano, ma se guardiamo le conclusioni in porta non ci diremo hanno concretizzato la loro superiorità al tiro con questo bel gol